Tra due settimane suonerà nuovamente la campanella in tutte le scuole dell'Aretino e così abbiamo voluto capire come sarà il rientro a scuola per gli studenti dell'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni Valdarno ad ormai un anno dal crollo del controsoffitto nell'aula del Plesso di Via Trieste. Abbiamo quindi sentito la presidente della consulta dei genitori Valentina Tatti. I ragazzi dell'indirizzo Moda ci racconta sono molto amareggiati perché a distanza di tanti mesi prendiamo atto che i lavori inizieranno non prima del prossimo ottobre, cioè ad anno scolastico iniziato. Gli studenti sono attualmente sistemati nei locali del centro pastorale Guido Guerra di Montevarchi e lì inizieranno il loro anno scolastico. Pensavano di tornare nella loro scuola, prosegue la presidente, perché i problemi logistici per molti studenti hanno un forte impatto sul quotidiano senza contare che parte della strumentazione non è accessibile e non c'è modo di raggiungere una palestra per le ore di motoria. Dalla provincia di Arezzo c'è la conferma che i lavori nelle quattro aule del Plesso di Via Trieste inizieranno effettivamente non prima della fine di ottobre. Un intervento complesso al quale l'ente, ci conferma il consigliere delegato della provincia di Arezzo Marco Morbidelli, lavora dallo scorso gennaio. Inoltre nei progetti dell'ente c'è anche quello di riqualificare l'intero Plesso. I ragazzi però si sentono isolati, prosegue la presidente. Gli studenti contavano di poter rientrare il 16 settembre nella propria scuola, speranzosi di poter finalmente disporre di laboratori, palestre e strumentazioni scolastiche, ma soprattutto di riprendere quella preziosa quotidianità con i propri coetanei.